Stiamo, stiamo, oh, bene, stiamo registrando, adesso devo mettermi il visore, eh, eh, cazzo. E' un problema di fondo, c'è un problema di fondo grosso, io sono un pene, ok, analizziamo, abbiamo un coso della Wii, quelli della Nintendo, io che non ho la testa ovviamente, però siamo pronti, proviamo a fare una gara amici, se sentite i rumori strani sul microfono mi dispiace. Perché vai in retro ancora? Cretino! Perché finisco qui? Che cazzo di problemi ha sta mappa? Dai, basta, spegnati! Sono una pippa! Non ci provare! Oh, quello giusto, quello è duro! Se l'è spenta! Se l'è spenta! Ah! Ah! Oh! Facciamo le manovre dalla donna! Ma che cazzo c'è? Che palle! Capitana, è durissimo! È volante durissimo! Oh, oh, che prodotto! Oh, oh, oh! Anche lì lì lì! Tutto a posto! Bestia! Per me c'è un problema la macchina. Io non so se adesso la Pagari c'è il servosterzo o meno, ma questa non ce l'ha! Io sono sicuro che non ha il servosterzo, perché non può essere che giro il volante e devo usare tutti i muscoli, anche del deretano. Dai, curva perfetta! Ah, sono un mito! Sono un mito! Grazie, correttore delle cose che mi rende il volante talmente duro che è impossibile da girare! Cazzo! Amici, posso vedere la macchina da fuori, amici! Ma che figo! Carino! Ah, cazzo c'era una curva! Merda! Alle sospensioni! Sì, effettivamente non esistono più le sospensioni. Ok, rimettiamoci la testa a posto. Perchè fa così? Perchè fa così? Ahhhh! Ho perso una gomma! Credo di aver appena perso una gomma! Non si vede! Sì! Sì, sì! Una mia gomma! Amici, vediamo un po' come si comporta una macchina senza una gomma! Mi sembra che non sia successo niente! Scherzà! Come si è persa? Come si è perso! Come si è perso!